Musica Allontanamento zero verso un tavolo di confronto Covid, il Piemonte punta anche sulle cure Giorno della memoria, gli eventi proseguono fino al 27 febbraio Nuova edizione di Consiglio News ben trovati In apertura parliamo di allontanamento zero La quarta commissione ha approvato il primo articolo del disegno di legge Previsto per il 10 febbraio un tavolo di lavoro con il presidente della giunta Alberto Cirio La quarta commissione presieduta da Alessandro Stecco Ha continuato l'esame delle DDL 64 allontanamento zero Nel corso della riunione è stato approvato a maggioranza il primo articolo dei 16 complessivi Con un emendamento interamente sostitutivo proposto dall'assessore al welfare Chiara Caucino Sulla base delle modifiche emerse dal confronto con i soggetti interessati al provvedimento Tutti gli emendamenti all'articolo proposti dall'opposizione Primi firmatari Monica Canalis, Partito Democratico e Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi Sono stati respinti Le tematiche della legge in discussione saranno al centro di un incontro il 10 febbraio prossimo Tra il presidente della giunta regionale Alberto Cirio Le associazioni delle famiglie affidatarie e alcuni docenti universitari Al tavolo di lavoro sarà presente anche l'assessore al welfare Chiara Caucino Proseguono fino al 27 febbraio gli spettacoli, le mostre, le letture, le visite guidate, gli eventi per bambini Iniziative legate al giorno della memoria realizzate grazie al sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte con il patrocinio della Comunità ebraica di Torino E' importante custodire e tramandare la memoria, queste le parole del presidente del Consiglio regionale Stefano all'Asia perché non si attenui e non si smarisca mai il senso della storia determinante per evitare il rischio di nuove tragedie La memoria del passato e il vaccino per combattere ogni autoritarismo ha rimarcato il vice presidente del Consiglio regionale Mauro Salizzoni in occasione delle celebrazioni che si sono svolte al Cimitero Monumentale e a Palazzo Civico in Sala Rossa Tempo tra i più difficili, il buco nero della nostra storia e l'unico modo per ricordarla è vaccinarsi di memoria vaccinarsi in modo tale che non ci si dimentichi da trasmettere questo ricordo alle generazioni presenti, future perché le cose che sono successe non devono mai, mai più succedere Covid, il Piemonte punta anche sulle cure ma servono più scorte di farmaci antivirali e monoclonali L'assessore Luigi Icardi ha riferito in Commissione Sanità sulla situazione pandemica Nella settimana dal 20 al 26 gennaio il Piemonte è stato al terzo posto per prescrizioni giornaliere e utilizzo dell'antivirale Molnupiravir dopo Liguria e Lazio e al quarto posto per utilizzo degli anticorpi monoclonali dopo Veneto, Lazio e Marche Potremmo essere decisamente più avanti ma al momento usiamo tutte le scorte che ci vengono distribuite Lo ha dichiarato l'assessore alla Sanità Luigi Icardi nel corso dell'aggiornamento in Commissione Sanità presieduta da Alessandro Stecco sulla situazione pandemica L'assessore e i suoi consulenti hanno confermato che il picco della pandemia sembra ormai superato e che sia cominciata la fase discendente anche se il numero dei contagi rimane alto In attesa che vengano emanate nuove imminenti direttive governative per le scuole rispondendo a Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre l'assessore ha dichiarato che si farà parte diligente con l'assessorato all'istruzione affinché sia rispettata la circolare interministeriale che prevede anche per gli studenti disabili la didattica in presenza Con Alessandro Stecco, Lega, l'assessore Icardi ha convenuto sulla possibilità di valutare e identificare a seconda dei periodi i principali soggetti vettori del contagio rappresentati per lo più da chi ha frequenti contatti interpersonali come i lavoratori e gli studenti La Commissione ha poi iniziato l'esame delle quattro proposte di legge sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione presentate dai primi firmatari Silvio Magliano, Moderati Domenico Rossi, Partito Democratico Carlo Riva Vercellotti, Fratelli d'Italia e Sara Zambaia, Lega I commissari hanno convenuto di procedere all'esame del testo unificato dei quattro provvedimenti licenziati dal gruppo di lavoro presieduto dal Vicepresidente Rossi che verrà esaminato nelle prossime sedute per poi approdare in aula È stata pubblicata il 21 gennaio la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte I lavori riguarderanno la riqualificazione del palazzo il rifacimento dell'aula consigliare l'abbattimento delle barriere architettoniche e numerosi altri interventi È possibile visionare e scaricare il bando di gara con i suoi allegati al link presente sul sito cr.piemonte.it Ambasciatori del Consiglio regionale sono numerose le scuole di tutto il Piemonte coinvolte negli incontri formativi online Prosegue il percorso formativo per le scuole che aderiscono al progetto Ambasciatori del Consiglio regionale Gli studenti del Liceo Valsalice di Torino e dell'Istituto Superiore Leardi di Casale Monferrato hanno preso parte a un incontro dedicato all'Europa organizzato dalla Consulta regionale europea A portare i saluti istituzionali Franco Graglia e Michele Mosca rispettivamente vicepresidente e consigliere segretario del Consiglio regionale del Piemonte A seguire il professor Umberto Morelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Torino che ha svolto un intervento sulla storia e sui valori dell'Unione Europea Un altro evento formativo che ha avuto come focus la salute e la sicurezza è stato organizzato dagli Stati Generali per la Prevenzione e per il Benessere e ha coinvolto i ragazzi dell'Istituto Virgilio Donadio di Dronero che hanno incontrato Fabrizio Miletto docente di Scienze Motorie presso l'Istituto Superiore Curie di Grugliasco e preparatore atletico e Giovanni Mistrangelo, sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato Rivolta agli allievi del triennio delle scuole superiori l'iniziativa ambasciatori del Consiglio regionale che ha visto il Consiglio regionale del Piemonte quale prima Assemblea legislativa italiana a proporla rientra nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e consente di acquisire crediti formativi Legge elettorale illustrate al gruppo di lavoro le soglie di sbarramento proposte nella PDL di maggioranza La clausola di sbarramento e le relative simulazioni sono state l'argomento principale del gruppo di lavoro sulla nuova legge elettorale riunito sotto la presidenza di Riccardo Lanzo In particolare ci si è soffermati sulla proposta di maggioranza presentata da Michele Mosca, Lega secondo la quale accedono al riparto dei seggi le coalizioni che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10% del totale dei voti validi e che contengono almeno un gruppo di liste collegate che ha conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3% del totale dei voti validamente espressi a favore delle liste Accedono anche i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5% del totale dei voti validi così come i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie ma che hanno conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5% del totale dei voti validamente espressi a favore delle liste Infine passano i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie suddette e che hanno conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 3% del totale dei voti validi espressi in favore delle liste Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti